Salmo 38 Salmo di Davide per far ricordare O Eterno non mi correggere nella tua ira e non castigarmi nel tuo cruccio, poiché le tue saette si sono confitte in me e la tua mano m'è calata addosso. Non ve nulla d'intatto nella mia carne a cagion della tua ira, e non verrei qui a per le mie ossa a cagion del mio peccato, poiché le mie iniquità sorpassano il mio capo, son come un grave carico, troppo pesante per me. Le mie piaghe son fetide e prulenti per la mia follia, io son tutto curvo e abbattuto, vo' attorno tutto di vestito a bruno, poiché i miei fianchi son pieni d'infiammazione e non ve nulla d'intatto nella mia carne, son tutto fiacco e rotto, io rugisco per il fremito del mio cuore. Signore, ogni mio desiderio è nel tuo cospetto, e i miei sospiri non ti son nascosti. Il mio cuore palpita, la mia forza mi lascia, ed anche la luce dei miei occhi è venuta meno. I miei amici, i miei compagni, sta lontani dalla mia piaga, e i miei prossimi si fermano da lungi. Quelli che cercano la mia vita mi tendono reti, e quelli che procurano il mio male proferiscono cose maligne e tutto il giorno meditano frodi. Ma io, come un sordo, non odo. Son come un muto che non apre la bocca. Son come un uomo che non ascolta e nella cui bocca non è replica di sorta. Poiché in te, io spero, o eterno, tu risponderai, o Signore, il Dio mio, io ho detto, non si rallegrino di me, e quando il mio pie vacilla, non si innalzino superbi contro a me, perché io sto per cadere, e il mio dolore è del continuo davanti a me. Io confesso la mia iniquità e sono angosciato per il mio peccato, ma quelli che senza motivo mi sono nemici sono forti, e quelli che modiano a torto sono moltiplicati. Anche quelli che mi rendo male per bene sono miei avversari, perché seguo il bene. O eterno, non abbandonarmi, Dio mio, non allontanarti da me. Affrettati, mio aiuto, o Signore, mia salvezza.